buongiorno a tutti in questo nuovo video vi voglio parlare del nuovo software cobra show creator che è stato rilasciato dalla cobra quest'anno questo software va a sostituire la vecchia versione chiaramente porta con sé diverse novità diverse implementazioni in questo video daremo una rapida occhiata generale a tutte quelle che sono le nuove caratteristiche principali di questo software iniziamo con il ricordare che attraverso l'utilizzo di questo software è possibile programmare il trasmettitore del sistema cobra 18r2 quindi è possibile realizzare spettacoli programmati semiprogrammati o piromusicali non ha la caratteristica di essere un simulatore quindi anche utilizzandolo per gestire quindi creare spettacoli piromusicali non c'è comunque il supporto della parte di simulazione degli effetti la prima cosa importante che facciamo notare è che a differenza del software precedente questo software non va più scaricato ma praticamente può essere utilizzato in cloud accedendo direttamente vedete sul suo specifico sito internet che è www.cobershowcreator.com quindi accedendo direttamente al sito del programma e al diciamo al primo accesso creando un vostro account potrete successivamente lavorare e utilizzare il software direttamente dal sito senza più la necessità di scaricarlo sul computer come si faceva prima vediamo inoltre che è stata ridisegnata l'interfaccia grafica che sostanzialmente a livello di contenuti non varia rispetto alla versione precedente del programma infatti qui abbiamo i nostri diversi menu quelli che ci permettono insomma di gestire gli spettacoli salvarli gestire nelle impostazioni gestire le etichette e i fogli di lavoro le esportazioni le varie preferenze oltretutto è stata migliorata la timeline dove poi potete caricare il vostro brano nel caso voleste programmare un piano musicale rendendola un pochino più accurata dando anche la possibilità di aumentare l'altezza della traccia radio e in generale sono state implementate alcune funzioni che in fase di programmazione rendono un pochino più veloce l'inserimento appunto dei vari eventi quindi delle varie accese vediamo la procedura per creare uno spettacolo si clicca qui sopra chiaramente viene richiesto il nome e se ci sono praticamente delle delle colonne nel quale aggiungere informazioni personalizzate si sceglie alla versione del firmware quindi possiamo adesso per fare un esempio scrivere esempio se abbiamo necessità di una postazione di sparo eccola qua e a quel punto scegliamo un nuovo firmware adesso per semplicità e creiamo il nostro spettacolo si chiede se vogliamo inserire la musica inseriamo la la musica possiamo scegliere fra diversi brani che abbiamo già salvato noi selezioniamo questo ad esempio ed inseriamo il nostro brano ecco in questo caso vedete la cosa più importante nella creazione di uno spettacolo programmato è il fatto che noi possiamo inserire ad esempio facendo partire la musica possiamo inserire attraverso questo questo tasto l'evento nel quale poi noi inseriamo sia il canale sia la linea e vedete una cosa importante appunto è che in caso dell'evento successivo se noi inseriamo il lo stesso canale praticamente si viene fuori la compilazione in automatica della linea mentre prima andava fatta tenendo conto della linea precedente adesso il programma a seconda dei canali impostati tiene automaticamente il conto delle linee utilizzate quindi vi dà automaticamente la prima linea libera non impiegata su quel canale un'altra caratteristica nuova del programma è la possibilità che lo show creator vi dà di poter intanto salvare i vostri brani utilizzati per i diversi spettacoli mettendoli tutti in una cartella comunque di immediata lettura quindi ve li mette in una lista ma vi dà la possibilità di caricare brani diversi e con una semplice operazione di poter creare da questi tre brani diversi un unico brano semplicemente attaccando i tre diversi brani quindi avete la possibilità di creare un unico brano fatto magari di tre canzoni diverse mentre questo prima veniva fatto esclusivamente utilizzando un software esterno e noi consigliavamo di utilizzare audacity adesso lo potete fare direttamente dal programma tornando al nostro programma vedete diciamo che è stata ridisegnata anche rendendola un pochino più chiara l'interfaccia grafica nel quale inserite le diverse accese come vi dicevo prima è stata migliorata e resa più precisa la timeline e sono stati sostanzialmente ridisegnati anche i vari report voi vedete rispetto al programma che state disegnando potete inserire le etichette diciamo degli effetti potete avere il report modulo per modulo quindi per ogni modulo che avete posizionato vedete qual è la programmazione o potete anche utilizzare il foglio generale per diciamo impostato per tempo quindi vedete molto chiaro il tempo dell'evento canale linea tipo di fuoco d'artificio e le varie colonne diciamo che riguardano le informazioni personalizzate che volete che volete aggiungere chiaramente tutte tutte stampabili un'altra funzione che poi è la vera e propria rivoluzione di questa versione del programma e anche delle nuove implementazioni in generale che sono state fatte sul sistema cobra e appunto l'implementazione della possibilità di gestire i vostri spettacoli pirimusicali attraverso un segnale time code quindi con un codice smpt quindi chiaramente è stata inserita sostanzialmente una nuova interfaccia quindi un player dal quale voi potrete praticamente mandare sia il segnale audio sia segnale time code e attraverso un apposito collegamento con le 18 ore 2 gestire il vostro pirimusicale direttamente dal vostro computer utilizzando questo questo player chiaramente per poter creare questa traccia time code voi avete già creato la vostra traccia del pirimusicale dovete associarli una traccia time code per fare questo il programma mette a disposizione una funzione veramente veloce pratica che vi permette di creare direttamente questa traccia praticamente impostando nessun valore è una una procedura automatica che fa il il programma vediamo anche come andando direttamente sui brani vedete voi potete scegliere da questa colonna se non utilizzare quindi nessuna traccia time code oppure utilizzarla e impostarla sul canale destro o sinistro dell'uscita della scheda audio del vostro computer in questo caso noi l'abbiamo l'abbiamo già selezionata sul canale destro ma se noi andiamo a prendere anche un altro brano vedete dove ancora non l'abbiamo creata noi possiamo crearla sul canale destro e vedete il computer automaticamente crea la traccia time code quindi andando a recuperare il vostro pirimusicale al quale è già stata associata chiaramente la traccia la traccia audio il computer una volta generato associerà direttamente anche la traccia time code e con questa traccia time code vedete che noi raccomandiamo di mettere sul canale destro dalla vostra uscita audio potrete appunto gestire quella che è la parte fondamentale quindi l'avvio alla gestione del vostro pirimusicale semplicemente facendo diversi collegamenti e premendo praticamente questo player vedete in questo caso il rumore fastidioso diciamo così è dato dalla traccia time code mentre in sottofondo si sentiva anche la traccia audio il sistema gestirà opportunamente queste due tracce e eseguirà il vostro spettacolo pirimusicale chiaramente sono state inserite delle implementazioni minori che sono distribuite in generale tra le varie impostazioni dello spettacolo dove chiaramente sono state inserite quelle che sono i richiami alla gestione del time code e questo lo trovate sulle istruzioni che noi forniamo in caso di acquisto del del kit time code ed altre ed altre piccole implementazioni che poi potrete tranquillamente gestire scoprire da soli in quanto il programma è assolutamente semplice ed intuitivo da utilizzare vi ricordiamo che il programma viene fornito con una licenza di due anni e quindi può essere sostanzialmente gestito da da qualsiasi postazione attraverso la quale voi vi collegherete utilizzando il vostro il vostro account per qualsiasi informazione potete come sempre contattarci ai recapiti che trovate sul nostro sito internet il nostro sito è brina fireworks.it e la nostra mail è brina fireworks chioccelagmail.com come sempre per qualsiasi richiesta siamo a disposizione vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento al prossimo video grazie